Ci dice il detto della candelora. La candelora dice che la candelora non si tratta di più, ma non si tratta di più. Però la candelora non si tratta di più, ma non si tratta di più. Ne piccole soleceglie, 30 giorni non si tratta di più. Grazie a Gabriele.